Ciao a tutti e benvenuti alla quarta puntata di Pokémon Anthology. La prima parte è dedicata alla seconda generazione, ovvero i Pokémon che vanno dal numero 152 fino al numero 201. La seconda generazione venne fuori tre anni dopo l'uscita dell'originale Pokémon verde giapponese. I nuovissimi capitoli furono Oro e Argento, solo su Nintendo DS.